C'è una vecchia storiella, ci sono due vecchiette che sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice, ragazza mia qui mangiare fa veramente pena e l'altra sì è uno schifo ma poi che porzioni piccole. Beh essenzialmente è così che io guardo la vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza e infelicità e disgraziatamente dura troppo poco ecco e c'è un'altra battuta che è importante per me che di solito viene attribuita a Gracio Mars ma credo in origine dovuta al genio di Freud e che è in relazione con l'inconscio ecco dice così parafrasandola io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me è la battuta chiave della mia vita ad adulto in relazione alle mie relazioni con le donne sapete ultimamente i pensieri più strani mi attraversano la mente perché sono sui 40 e credo di attraversare una crisi o questo non mi preoccupa invecchiare non sono di quei tipi lo so quassù mi si apre una piazzetta ma peggio di questo per ora non mi è capitato anzi credo che migliorerò invecchiando credo che sarò il tipo virilmente calvo ecco il contrario del distinto argentato ecco ad esempio eh e se no nessuno dei due divento uno di quelli che perdono i filini di bava dalla bocca e vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo e ne io abbiamo rotto e io non riesco ancora a farmene una ragione continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente cercando di capire da dove è partita la crepa ecco un anno fa eravamo innamorati sapete è strano non sono il tipo tetro non sono il tipo deprimente ecco sono stato un mimbo ragionevolmente felice credo sono cresciuto a brooklyn durante la seconda guerra mondiale